Raga, volevo dirvi che questo video è ironico, non prendetelo sul serio, anche perché nel titolo sta scritto parodia. Ora vi lascio, ciao, lasciate like. Erpes, questo messaggio è per te, questo è tutto oro, tu è sblin blin, tu è tutto fake, coglione, bufu. Si capito, Vale03 ha dissato Tony Erpes, aspettiamo una risposta di Erpes per farci solo soldi.